Roblox è una mappa che forse, 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 forse già conoscete. La mappa più bella di Roblox, la mappa di super mascalosi. E io ho 7k. Oh no, oh no. Vi faccio vedere una cosa. Allora, Teleport. Teleport stancario. Ecco, guardate. Ci sono persone che hanno 2 trilioni. E io sono soltanto il più forte di questa lobby. Con un rperd. Comunque qua per andarci serve 9k. Vedete? 9k. E io ce la faccio con 7. Non mi credete? Guardate. Direte, ma non si sta spostando. Perché ci vuole tempo. Ci vuole tempo, però. Ci vuole tempo. Allora. Non ho capito. Fammi andare. Dai, dai che ce l'ho fatta, no? No, quasi. No, quasi. Quasi. Guarda. Ecco. No. Quasi. Vai. Ce l'ho fatta. Ecco. Vedi? Ma quanto è l'acca? E io? Riesco a spostare il DJ. Guardate. Il DJ. È un bug. E io? B, 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 C, G, E, E, F, G. È un'idea, nè, andamai, dì. La smetto. A, B, C, D, E, F, G. Io voglio arrivare a 30k. Voglio arrivare a 30k. Anzi, andiamo a buttare i piccolini. Qua. Carellino. Chi è il più forte di Roblox? Ma scusa, sono io il più forte. Ah, perché tu non hai ripit. Ripit. Tu, entra. Entra. Entra nel carrello. Ma dai, entra, spati qua. Chi vuole entrare? Tu. No, tu. Chi vuole entrare? Tu. Va bene, vieni. No, vieni. Oh, passi la sp... Entrate. Entrate. Ok, vuole essere bustato. Sssh. Sssh. No, tu. No, tu. Grazie.